Il punto fondamentale è che noi vogliamo salvaguardare l'esperienza dello SPRAR, un'esperienza che è nata con la legge Bossi-Fini nel 2002 e che nel corso di questi 16 anni ha dato risultati importanti. È quindi necessario, come già si sta cominciando a fare, portare avanti un confronto con il Ministero dell'Interno affinché comunque l'esperienza dello SPRAR continui, prosegua, coinvolgendo nel modo più adeguato i comuni nell'interesse dei cittadini, dei nostri territori e per una politica di integrazione e di accoglienza efficace.